Fino a qualche tempo fa sarei stata considerata un'inguaribile romantica. Questa dolla cerca di impedire che il nostro equilibrio ambientale sia distrutto dalla continua ricerca di gas e petrolio. Vuole preservare un'area di eccezionale bellezza naturale per le generazioni future. E proteggere la cultura del luogo dall'impatto con il progresso. Perché è possibile fornire l'energia di cui la terra ha bisogno rispettando le sue esigenze. Ma nonostante tutto questa donna non lotta contro le compagnie petrolifere. Lei è la compagnia petrolifera. Lei è la compagnia petrolifera.